Ciao a tutti, come state? Spero che siate bene. Allora, ragazzi, sono emozionatissima perché tipo... non riesco a parlare. Sono già tipo quattro volte che inizio questo video e lo stoppo, lo inizio, lo stoppo, lo inizio, lo stoppo. Praticamente non riuscivo a dare il via. A una certa mi sono detta, come papa, inizia a fare questo video. Come avete visto dal titolo, vi devo dire una cosa. Sono incinta, ragazze. In realtà chi mi segue su Instagram ha già visto anche un po' di fasi, non molto, perché non ho raccontato molto, però già sanno che sono incinta. E sono molto contenta di questa cosa perché penso che sia il sogno di ogni donna, comunque è una cosa, un progetto di vita, come lo chiamiamo noi. Sì, Luca lo chiamiamo un bel progetto di vita che è importante, che penso sia uno dei più bei progetti di vita che una persona può intraprendere. E niente, qua il vestito si apre e sono molto contenta. Quindi appunto per chi mi segue su Instagram già sa tutto, però ho voluto fare questo video per chi mi segue su YouTube e perché vorrei iniziare a fare video vlog un po' più assiduamente, anche per raccontarvi un po' di questa gravidanza, come andrà, come non andrà. E sono molto felice perché penso che i video della gravidanza, comunque i video di questo genere siano, penso, i video più belli da vedere, i video più veri, i video più... Non lo so, anche condividere le piccole cose con chi ci segue è veramente molto bello. Allora, io ragazzi era da tanto tempo che pensavo di voler avere un figlio un giorno, però diciamo che non è che mi davo delle tempistiche perché sappiamo comunque, cioè, queste cose purtroppo non si programmano e quindi dicevo, beh, quando avverrà, avverrà. Cioè, nel senso, non mi fisso in delle cose che sono inutili da fissarsi, ecco. E quindi, ragazzi, niente, stavo ora parlando, nel frattempo è suonato il cellulare. Comunque, queste cose non si programmano e quindi quando vengono, vengono. Soprattutto quando vengono a sorpresa sono ancora molto più belle, sono ancora molto più sentite. Anche se anche le altre gravidanze programmate, anche quelle sono bellissime, però quando scopri in quel momento di essere incinta, dice, ok, un attimo, un attimo che devo comprendere cosa stia succedendo, cosa sta succedendo. E' quello che è successo a noi, fondamentalmente. E diciamo che nel cuore dell'estate, ecco, succede che mi salta il ciclo, come tutti quanti. E io dico, boh, vabbè, sarà un periodo perché comunque al lavoro facevo molte cose, anche a casa, poi ho anche un altro impegno. E quindi dicevo, oddio, 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 non lo so, beh, sarà una cosa, una questione di stress perché effettivamente ero veramente molto stressata. E dicevo, boh, sarà solo una questione di stress. Però Luca mi ha detto, secondo me no, tu sei incinta. Cioè lui mi ha detto proprio così, tranquillamente, quindi non ho potuto neanche fare, sapete, quei video, quelli tipo emotional, quelli che la tipa fa vedere il test di gravidanza al marito o al fidanzato e lui tipo, oddio, stiamo per diventare genitori e tipo sta roba così. Cioè no, perché Luca era il mio ginecologo, praticamente, lui già sapeva che ero incinta. Lui mi fa, tu sei incinta. Senti tu rumori, io sento tutti i rumori, vabbè. E mi fa, tu sei incinta. E io dico, vabbè, vabbè, io lo guardo un po' scettica. Eh, va bene, mi sono incinta, vabbè, aspettiamo un po' di giorni, sapete, il ciclo ogni tanto ritarda. Ci sono momenti in cui ritarda, ci sono momenti in cui è come un orologio, ci sono momenti che arriva pure il giorno prima. Quindi, non lo so, ho dato più colpa al ciclo, ecco. Invece passa tipo un bel po' di tempo, due settimane. Inizio a dire a Luca, forse, forse qua dobbiamo andare a fare una visita. E lui mi fa, ma tanto, sei incinta, cioè, è inutile, tu sei incinta, possiamo andare a fare già le prime visite. E io dico, no, non mi fisso. Nonostante iniziavo ad avere le prime, i primi sintomi. Ossia, la mattina, quando mi alzavo per andare al lavoro, mi svegliavo con una stanchezza in collo, ragazze. Una stanchezza, cioè, non riuscivo ad alzarmi. Quando, di solito, succede il contrario. Io mi sveglio prima della sveglia, vi giuro. Mi sveglio io prima della sveglia e alzo Luca. E addirittura, certe volte, inizio anche a preparargli i vestiti che deve indossare. Invece questa volta, no. Infatti, quelli erano già i primi segni. Proprio, vi giuro, anzi, odiavo la sveglia. Odiavo Luca che mi svegliava. E lui mi svegliava, proprio mi alzava, perché proprio io non ne volevo sapere. Avevo veramente una stanchezza in collo, cioè, mai avuta in vita mia. Neanche quando correvo con le corse campestri, vi giuro, perché ho fatto un periodo di corsa campestre tanti anni fa. Ma neanche dopo una corsa campestre riuscivo comunque ad avere energie. Invece adesso, proprio questo, in quel periodo lì, in quel trimestre lì, veramente, ero morta. Anzi, odiavo tutto, odiavo tutti e la mattina avevo la nausea. Ecco, quindi, cioè, più chiaro di così non si poteva. Lui mi fa, Luca, non comprarti il clear blue. Io ero decoccio, volevo prendere sto clear blue perché volevo vedere di quanto ero incinta. Comunque, volevo prendere sto clear blue. Volevo spendere quelle 20 euro, le volevo dare. Cioè, alla farmacia, le volevo regalare. E lui mi fa, ma è inutile che le spendi perché tanto sei incinta. Va bene, io quando esco da lavoro, vado perché c'è la farmacia vicino, prendo questo clear blue. Il primo clear blue mi va male. Cioè, nel senso, tra l'altro, ho scoperto che anche altre persone hanno avuto lo stesso problema. Che ogni tanto questo clear blue sfasa. Cioè, nel senso, quando fa il test... Scusate se continuo a guardare lì, ma perché vedo dei gatti che si stanno azzuffando. E comunque, la prossima volta chiudo la tenda. Prima di fare il video, chiudo la tenda così almeno non guardo in altri posti. Comunque, vado in farmacia a prendere il clear blue e questo clear blue mi va male. Cioè, nel senso, risulta che non è fatto bene. Però io poi, leggendo anche altri forum di altre ragazze e tutto, ho letto che comunque anche loro hanno avuto lo stesso problema. Ho ripreso il secondo clear blue e quello è il mio risultato positivo. Quindi, dipende anche, secondo me, dall'otto forse. Oppure sono stata proprio io incapace nel fare il clear blue. Però mi è perso strano, va bene. E vado poi al consultorio, perché il mio ginecologo, ragazze, era in ferie, mi sembra. No, non era in ferie, scusate. Aveva in quella settimana lì, tipo, una sorta di assemblea fuori dalle marche. E quindi, dico, vado al consultorio, tanto i miei parenti hanno fatto tutti lì al consultorio all'ospedale di Fermo. Dico, vado anche io lì, così almeno, soltanto so che sono bravi, vado, vabbè, amen. Vado lì, anche perché è vicino al mio lavoro. E, niente, mi fa la prima visita e, ancora mi ricordo, mi fa la prima visita, mi scrive le analisi e mi dice, mi facciamo un attimino il controllo, appunto, la radio, l'ecografia, scusate. E mi fa l'ecografia, io vi giuro, ragazze, ogni volta che mi fanno l'ecografia, io alterno, tipo, sorrido e piango. Io sorrido, cioè, io sto sorridendo, tipo, ah, tipo, imbambolata e piango. Cioè, fisso, questo è fisso, proprio. Anche alla seconda ecografia, quella più, diciamo, più, chiamiamo, elaborata, che è venuto con me, Luca, ragazze, diciamo che ho alternavo un sorriso a pianti, ma proprio pianti strani, perché non mi rendevo conto che mi scendevano proprio le lacrime. Quindi, veramente, una sensazione stranissima. E poi, ragazze, niente, ecco, iniziato il mio periodo, diciamo che i primi tre mesi sono stati molto, molto complicati, perché non complicati solo la mattina. Per il resto della giornata stavo bene, cioè, come se non ero normale, diciamo, no? Però la mattina, come vi ho detto, avevo questa stanchezza in collo, cioè, non vi dico. Ragazze, quando scopro di essere incinta, nel frattempo ho dovuto cambiare postazione leggermente, perché la luce sta cambiando. Quando scopro, appunto, di essere incinta, vado al negozietto mio di fiducia di bigiotteria e mi prendo questo qui. E la ragazza mi fa, guarda, io avevo visto qualcosa in sé di diverso, infatti, in tanti me l'hanno detto, perché si vedeva proprio sia in vito, ragazze, che anche un pochino di gonfiore ce l'avevo. Ma io davo colpa al fatto che mangiavo un po' di più rispetto al solito, per lo stress, non lo so. Diciamo che non davo colpa alla gravidanza. E invece, infatti, la ragazza mi fa, guarda, visto che avevo avuto questo presentimento, non ho detto, non te l'ho voluto dire, perché, metti che non fosse, diciamo, non fosse vero, non ti volevo dire, guarda, sei incinta. Mi fa, allora, ti voglio fare questo regalo, e mi regala, appunto, questa collanina. Mi dice, guarda, scegliela, sceglila, perché ce n'erano due, c'era questa e c'era quella con il pallotto, il pallotto, comunque con il pallottone, solo che era color oro. E io ho voluto prendere questa perché è un po' diversa dal solito e aveva il cuore. E mi ha voluto fare questo regalo, perché comunque mi conosce da tanto tempo e compro da lei, veramente, cioè, da quando avevo, penso, 14 anni, una roba del genere. Quindi mi ha voluto fare questo regalo perché mi ha visto proprio felice. E non lo sapeva nessuno, infatti, quando andavo in giro, tipo questa, la mettevo dentro, oppure, tipo, per non farla sapere più che altre parenti, perché volevamo fare la sorpresa. Infatti, abbiamo fatto una piccola sorpresa. Ora ve la faccio vedere. Aguri! Ma tu puoi prendere il muro, frambolino! È Gide? Sì. Vai, non ho detto scegliela! Aguri! Vai! Vai! Ma mamma! Ma mamma! Ma mamma! Ma mamma! La mamma! Ma mamma! Ma mamma! Ma mamma! È Sì! Io sono qua! Ma mamma! Allora! 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 Come avete visto ragazzi, questa è stata la prima reazione di alcuni nostri parenti, anche perché sono quasi tutti lontani, però diciamo mia suocera, la sorella di Luca, il fratello di Luca, la cognata, mia zia, mia madre, mio zio, questi sono i miei parenti più stretti, poi ho anche altri parenti più lontani, però sono tutti più lontani. Peccato che non mi posso far vedere la reazione di mamma, perché la reazione di mamma era tipo, infatti è stata l'ultima scena, così non riuscivo a capire, ma fa sei incinta. Poi tra l'altro quando le ho detto la data presunta del parto, perché avverrà quando mamma ha il compleanno, più o meno giù di lì, è iniziato a piangere, perché comunque è errata tanto che anche lei mi diceva che voleva anche lei un nipotino e tutto, però realizzarlo effettivamente non era facile, anche perché era un pomeriggio tranquillo, lei era tornata dal lavoro, era venuta e passata da me, stava moglie a guardare la tv, non si aspettava una cosa del genere. Comunque io avevo preso delle scarpine, queste qui, per fare appunto la sorpresa un po' a tutti, guardate che belline che sono, penso di utilizzarle anche quando nascerà, oppure lasciarle proprio direttamente come ricordo, e l'ho messa nella scatolina del matrimonio dei ragazzi, perché non riuscivo a trovare una scatolina proprio piccola e precisa, e questa invece era proprio precisa, e quindi ho detto no, vabbè, questo è anche di buon auspicio per loro, e niente, come riutilizzare le bomboniere, in questo modo sono anche di buon auspicio. Comunque, abbiamo fatto anche la cena con gli amici, quando avevo postato su Instagram la foto dai girasoli, è perché avevamo fatto tutti insieme una cena, tutti quanti, dove abbiamo appunto detto che aspettavamo un bambino, e infatti loro se l'aspettavano perché mi vedevano più stanca, mi vedevano più arrotondata, e quindi se l'aspettavano. Io continuo ad avere singhiozzi, non so perché, e se l'aspettavano, ma noi comunque non volevamo dire, ragazzi, anche se la cosa iniziava ad essere evidente, perché volevamo assolutissimamente fare il test del DNA fetale, è un test che la sanità non passa, quindi dovete andare a livello privato e fare appunto questo test, è un prelevo di sangue tranquillo, però vanno ad analizzare i cromosomi, e lì vanno a capire se ci sono dei problemi. E' un test che costicchia veramente molto, tanto, però almeno volevamo farlo per sicurezza, ecco, per essere più sicuri. E poi ti dicono anche il test del bambino, solo che noi volevamo fare il gender reveal, che sia qui o che sia stato in Toscana, per noi era indifferente, e però infatti la clinica, no, la clinica è un laboratorio, il laboratorio ci ha messo un post-it davanti per non vedere il sesso, quindi se volete, avete intenzione di fare questa cosa con il test del DNA fetale che dovete fare nei primi tre mesi, comunque è meglio evitare, fatevi mettere il post-it o comunque fatevi nascondere il sesso perché si vede. E poi niente, ragazze, questi sono stati i primi mesi, poi tra l'altro siamo andati anche in Marocco, e la ginecologa mi diceva, guarda, ma non è il caso di non andare in Marocco, perché ovviamente chi sentiva Marocco, diciamo, oddio, no, non lo so, per la toxoplasmoide, per qua, per qua e là, ma in realtà, ragazzi, in Marocco fanno più figli di noi e stanno tanto bene, quindi la cosa non mi preoccupava molto, mi preoccupava più l'aereo. Infatti, dovevamo fare anche altre più escursioni, più cose, però ovviamente non ce la sentivamo di farle, quindi abbiamo preferito di stare più tranquilli, anche se, tipo durante la giornata, come avete visto, rimanevamo in hotel, però la sera, sì, uscivo, ma ero già stanca, perché arrivavo con le energie proprio azzerate, sì, facevamo i nostri giri e tutto, però non è che riuscivo chissà quanto, come quando non ero in gravidanza, ovviamente, quindi come se fosse un Duracell, che camini, 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 con una certa blam. Poi ho fatto altri video, ragazzi, per quanto riguarda le vacanze, solo che quando adesso ho voluto iniziare a fare il montaggio, stavo iniziando a fare il montaggio per gli altri video della vacanza, dopo quello che è successo in Marocco, sinceramente non sono più riuscita a rivedere quei video e a fare il montaggio, forse non so, dovuto anche dalla gravidanza, gli ormoni sono sballati, non lo so, ma non sono proprio riuscita ad andare avanti con il montaggio, infatti mi dispiace non avervi postato gli altri video, però potete capire, anche perché è quello che è successo, non sono riuscita ad andare avanti. Poi per quanto riguarda ritornando alla gravidanza, non rattristiamo questo video, quando siamo andate in Toscana, che c'era un evento in famiglia, c'era un battesimo, ragazze, le zie hanno voluto farci questa sorpresa, hanno voluto organizzare, gli abbiamo dato il foglio, Luca sapeva tutto, gli ha consegnato il foglio del laboratorio, hanno tolto il post-it e hanno letto, appunto, che era femmino o maschio, e dopo loro hanno organizzato tutto. Io sono rimasta veramente scioccata, perché sono stati bravissimi ad organizzare il tutto, e poi c'erano tutti i parenti di Luca, ma tutti, 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 c'erano tutti, perché tanti parenti, anche lui lì a lontani, ma quel giorno lì c'erano veramente quasi tutti, penso il 90% dei parenti, quindi sono rimasta anche ancora più felice anche per questo motivo. E adesso vi lascio al video del gender reveal, per chi non l'ha visto, però per chi l'ha visto, se vi fa piacere, continuate a vedere questo video, e io, scioccata ragazzi, sono scioccata, poi dopo il prossimo video, nel prossimo video vlog, parleremo meglio di questa cosa, spero che in questo video vi abbia tenuto a compagnia, io chiudo qui il video, così vi lascio appunto al video del gender reveal, vi mando un abbraccio, che Dio ce la mandi buona, e sono molto felice, spero che questa mia felicità ve l'abbia trasmessa in questo video, e ci vediamo appunto al prossimo. Un bacione e alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!